Un dato più di ogni altro testimonia la portata della seconda ondata covid in Abruzzo e quello dei pazienti in rianimazione 76, numero invariato rispetto a ieri ma identico a quello registrato il 3 aprile ed il secondo dato più alto in assoluto dopo il record di 77 raggiunto sabato. Complessivamente sono 173 i posti letto in terapia intensiva a disposizione delle quattro ASL e occupato quasi il 44 per cento a fronte del 30 per cento soglia d'allarme fissata dal Ministero della Salute. A voler guardare il bicchiere mezzo pieno crescono i guariti e il dato dei positivi riscontrati quotidianamente dall'analisi dei tamponi. Oggi sono 396 su 3901 test, il 10 e 15 per cento fa intravedere una leggera discesa così come i ricoveri, meno 17 rispetto a ieri, 773 in totale ed il numero degli attualmente positivi meno 4 a quota 18.188. Tra le località con più nuovi casi ci sono l'Aquila con 42 ad Avezzano con 18, 7 i contagi recenti a Pescare Chieti, solo 3 quelli emersi a Teramo. A livello provinciale il maggior incremento più 244 riguarda l'Aquilano dove il totale sale a 9.211. Seguono il Chietino più 87, il Teramano più 48 e il Pescarese più 40. A questi dati si aggiungono 248 pazienti residenti fuori regione e 207 per i quali sono in corso le verifiche sulla provenienza. 17.415 persone, infine più 13 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare.